Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della sportiva Ultra Raptor 2 versione Leader GTX, una scarpa con quale la sportiva va a devolvere la versione 1 adattandola al mondo degli escursionisti e in questa recensione faremo anche un piccolo confronto con la versione precedente di cui io sono stato possessore e le ho utilizzate fino a consumarle definitivamente. Quindi iniziamo subito la recensione. Come vi dicevo nell'introduzione io sono stato un possessore della sportiva Ultra Raptor versione primo modello che ho consumato veramente ci ho fatto migliaia di chilometri, più di mille sicuro. Per quanto riguarda queste l'ho voluta comprare e recensire proprio per farne anche un confronto vedere se questa versione è adattata all'escursionista, l'ha migliorata oppure l'ha peggiorata. E quindi partiamo con la descrizione di questa scarpa iniziando dalla suola. La suola è una Frixion Blue, sempre di casa alla sportiva, che è la stessa etica che trovavamo sul modello precedente. La Frixion Blue non è altro che la suola più duratura della gamma, quella con quale riusciamo a fare più chilometri tanto che anche con questa scarpa secondo me ci si riuscirà a fare più di mille chilometri a livello escursionistico. È comunque una suola pensata per il running, quindi una suola fortemente aderente, va bene su qualsiasi terreno. Davvero andiamo dalla ghiaia, andiamo sullo sterrato, andiamo nel sottobosco, andiamo anche sui sassi, va veramente super bene. E se vi siete trovati bene come modello 1 questa sarà uguale identica. Allo stesso modo abbiamo sempre anche l'anti-brake system di la sportiva che serve a limitare gli urti quando andiamo a camminare magari su terreni particolarmente sconnessi. E questa suola ha sempre anche il pregio che non si impregna di fango. Noi possiamo camminarci davvero in mezzo a tantissimo fango e si andrà tantissimo a pulire perché non ha punti in cui il fango tende ad accumularsi. Continuando, passando all'intersuola, innanzitutto troviamo un drop di 9 mm, che vabbè, è un pochino pronunciato, però ci può stare per una scarpa ad escursionismo. Soprattutto per una scarpa come questa, che ha un'intersuola in eva, classico, anche qua sempre di derivazione running, che fa il suo lavoro per bene, anche camminando per tanto tanto tempo la scarpa non fa male, non avremo affaticamento del piede, possiamo andare avanti davvero tantissime ore senza avere nessun problema. Ma passiamo alla parte superiore, alla tomaia, che è quella che veramente rivoluziona questa scarpa, che fa la differenza tra la versione 1 e la versione 2. La tomaia non è più di derivazione running, quindi non è più super traspirante, è una tomaia che presenta della pelle, in particolare il Nubuk. Questa pelle la rende decisamente più rigida, soprattutto sui laterali, quando camminiamo un pochino obliqui, su qualche sentiero un pochino obliquo, e sicuramente la rende anche più protettiva contro rocce, radici e via dicendo. È una tomaia che presenta anche un innesto in Gore-Tex, in particolare il Gore-Tex Extended Comfort, che è classico di queste calzature, noi lo troviamo anche per tanti altri brand, che svolge bellissimo il suo lavoro. Io ci ho camminato anche dentro la neve per diverse ore, davvero questa scarpa non fa entrare nemmeno una goccia d'acqua, fatta veramente bene. L'unica cosa è la traspirabilità, che sulla versione 1 era decisamente migliore, avendo messo la pelle, è un pochino peggiore. Diciamo che va bene anche per l'estate, non la utilizzerei in posti particolarmente caldi. Cioè se dobbiamo andare 1500 metri in su, che comunque l'estate è sempre un pochino freschino, ok. Ma se dobbiamo utilizzarla per fare magari una via francigena, dove le temperature possono essere decisamente alte, essendo un pochino più in pianura, questa scarpa non ve la consiglierei, è una scarpa decisamente più traspirante. Una cosa inoltre che va a far cambiare è proprio la struttura della scarpa alla rigidità. Questa scarpa, se noi andiamo a comprimerla, come potete vedere, non è più così flessibile. La rullata è un pochino più costretta e questo è il classico delle scarpe da escursionismo. Quindi tenete conto che sarete un pochino più costretti nella rullata del piede. E per quanto riguarda sempre la stabilità, come sul modello precedente, troviamo tutto l'inserto stabilizzatore sul tallone. Questo ci aiuta ed evita che la scarpa tenda a fare questo movimento, svirgoli, o ci possa provocare qualche tipo di distorsione su terreni particolarmente sconnessi. Sinceramente questo inserto stabilizzatore l'ho sempre apprezzato tanto, perché ci ho camminato davvero su terreni ghiaiosi, sassi veramente messi male e non ho mai avuto problemi di svirgolamento o distorsioni. Quindi questo inserto stabilizzatore derivante dalla versione precedente mi è piaciuto veramente tanto. Parlando un attimo del puntale, questo è super imbottito, bello rigido, possiamo prenderci dentro davvero qualsiasi tipo di roccia e non avremo nessun tipo di problema. Io l'ho utilizzato e non ho mai avuto unghie nere. E anche per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede, beh, io di da sportiva ho sempre preso il 47, confermo il mio stesso numero anche su questa. Perciò per questo tipo di scarpe prendete il solito numero che comprate di da sportiva e non penso che avrete tanti problemi. La cosa che però non mi piace di questa scarpa, che è davvero un difetto, per il quale adesso faremo anche un ragionamento, è tutta la parte del tallone, tutta la parte qua dove andiamo a inserire il piede. Questa parte qua non mi è piaciuta per niente perché crea tanta tanta pressione attorno al nostro piede, soprattutto nella zona del malleolo, e tende a far male. Nel senso, finché noi camminiamo, anche per tante ore, ma in piano, ok, dà fastidio, parecchio fastidio, però è sopportabile. Quando noi andiamo a camminare su terreni un pochino obliqui, beh, lì fa veramente male. Cioè, fidatevi, è uno sfregamento che fa davvero male. Ed è un peccato perché rende questa scarpa praticamente inutilizzabile. Io dopo dieci ore sono arrivato che avevo male a tutto il collare, tutta la parte del piede che risulta a questa altezza, proprio perché, non lo so, cioè sinceramente non so dirvi se manca l'imbottitura, ma non sembra questo prima, perché comunque l'imbottitura c'è. È proprio realmente la costruzione, come è stata costruita, è troppo serrante, è diversa dal modello 1, e questa cosa qua, so che non sono l'unico che l'ha notata, ed è davvero un punto negativo per il quale io sinceramente non mi sento tanto di consigliarvi questa scarpa. Seconda cosa, inoltre, che non mi è piaciuta, la linguetta. La linguetta è imbottita, svolge bene il suo lavoro per quanto riguarda l'imbottitura, però tende sempre a scivolare di lato. Io dopo ore, davvero ore e ore di camminata, la linguetta scivola. Scivola di lato, inizia a dare fastidio, inizia a far male. Ho provato ad allacciare le stringhe in tutti i modi, con l'asola superiore, l'asola inferiore, più stretta, meno stretta. L'ho provato di tutte, ma la linguetta tende sempre a scivolare di lato. Non ho trovato un modo per farla stare ferma. Penso che davvero sia un difetto della scarpa. Infine, parlando della soletta interna, in Ortolite, questa non ha nessun problema, funziona bene. È una soletta, anche questa, derivante dal running, la stessa che c'è sul modello precedente, quindi sinceramente mi ci sono trovato bene. Nessun tipo di problema. Perciò, vi consiglio queste nuove, la sportiva Ultra Raptor 2 versione leader? Sinceramente, no. Se vi sono piaciute le Ultra Raptor, restate sulla versione 1, oppure andate sulla versione 2, ma sempre versione running, che non è altro che la versione 1, andata a colorare in modo differente, come dice anche la sportiva sul suo sito. Io queste scarpe, questa versione 2, personalmente non ve le consiglio, proprio per come è fatta tutta la parte posteriore, perché tendi davvero a far male alla lunga. Ed è davvero un peccato, perché io con le 1 mi ci sono trovato super bene, ero entusiasta di provare queste due, perché ho detto, cavolo, finalmente la sportiva prende quella che era la scarpa da running per l'escursionismo numero 1, quella che ha aperto la strada a questo tipo di utilizzo delle scarpe, e la rende adatta agli escursionisti, andandola un pochino a modificare. Però davvero mi sono dovuto ricredere durante la prova, perché io sinceramente questa scarpa penso che non la utilizzerò più, perché davvero mi ha dato tanto tanto male. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esaurente e esaustivo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, e ci vediamo al prossimo. Ciao!